Nulla è possibile se ti diri del Signore Nulla è possibile se tu credi a Lui colpo Dio ti chiede e c'è qualcosa che sia un po' difficile per me Sulla parola forse a ti confida nel Signore Con Dio è possibile se tutto è possibile per te Nulla è possibile se ti diri del Signore Sono qui mio Dio e voglio offrire a te i giorni miei La vita è quel che ho A te io guardo A tuo infinito amor che ancora mi guarirà Così naso a te i miei occhi Vincerò con la tua forza Tocca a mi Lascia che il tuo amor sia in me Le mie paure scioglierà Sono qui mio Dio e voglio offrire a te i giorni miei La vita è quel che ho La vita è quel che ho A te mi affido Sotto le ali tue Tu mi proteggerai Se sarò nella tempesta Avrò fede in te Signore Signore Credo in te E passerò con te E passerò con te Tu mi proteggerai Tu mi proteggerai Così naso a te i miei occhi Vincerò con la tua forza Tocca a mi Tocca a mi Lascia che il tuo amor sia in me Le mie paure lui scioglierà Se sarò nella tempesta La tempesta Avrò fede in te Signore Credo in te E passerò con te Gesù Con te sarò completo Io sarò completo Io sarò completo Io sarò completo In te Siamo così felici oggi di poterlo dare al Signore E dopo un tempo di canto, preghiera, dell'adorazione che nei nostri culti offriamo al Signore Stiamo per avvicinarci alla sua parola Lo vogliamo fare prima Chiedendo la sua guida E la sua illuminazione Padre ti lo diamo per Gesù Insieme al salmista Noi intercediamo e domandiamo Signore illumina gli occhi miei affinché contempli le meraviglie della tua legge Preghiamo che questi occhi siano aperti anche alle amiche e agli amici che non ti conoscono La tua parola, Signore, è vita per ciascuno E noi vogliamo pregare che ognuno la riceva secondo le proprie necessità e bisogno Parlaci, ascoltaci Nel nome di Gesù Benedetto in eterno Amén Rivolgiamo la nostra attenzione alla lettura della parola del Signore come la leggiamo nel Salmo 23 al verso 1 Leggiamo nel Salmo 23 al verso 1 Il Signore è il mio pastore Nulla mi manca Ve lo leggo anche dalle vecchie versioni di Odati e Riveduta L'Eterno è il mio pastore Nulla mi mancherà Possiamo sedere Il nostro soggetto oggi è le dieci cose che non mancano e non mancheranno Le dieci cose che non mancano e non mancheranno Abbiamo letto che il salmista affermava Nulla mi manca, vecchie versioni Nulla mi mancherà Sono belle tutte le versioni della parola e le possibili traduzioni vengono incontro anche nell'illuminarci su più aspetti Perché la parola del Signore nel suo studio è certamente poliedrico e ci ha tanto da darci e non soltanto e non sempre e non solo solo una lezione ma più lezioni Le dieci cose che non mancano e non mancheranno Tema, soggetto, titolo Che prendiamo dalle due possibili versioni di questo testo La posizione del salmo 23 è interessante Come è ovvio che sia in matematica segue il salmo 22 ed è però anche seguito dal salmo 24 Ma ovviamente non è la lezione matematica che vogliamo notare quanto quella spirituale Segue il salmo 22, questo salmo 23 oggetto della nostra conversazione che è il salmo della croce Perché in realtà solo dopo aver detto Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato come affermato precedentemente Poi noi abbiamo avuto il privilegio di poter leggere il Signore è il mio pastore Senza la croce non avremmo mai potuto avere Gesù come sommo pastore delle anime nostre Ma non finisce qui perché dopo il salmo 22 della croce e 23 della pastura del Signore per noi Viene il salmo 24, salmo che semplicemente ci parla del regno di Cristo Al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti Chi è questo re di gloria? Egli è il Signor forte e possente Egli è il re di gloria E siamo così felici di sapere che solo dopo la croce e la pastura, la guida del sommo pastore Gesù Del popolo di Dio poi noi potremo vedere il regno di Cristo Quando ogni cosa sarà ridotta al silenzio e Gesù sarà il re dei re e il Signore dei signori Chi è questo pastore di cui parla? La Bibbia dice in Efesini 4.11 che è lui Gesù che ha dato Gli uni apostolo, gli altri profeti, gli altri evangelisti, gli altri pastori e dottori Dunque Dio ha fatto questi doni alla Chiesa del ministero cristiano tra essi i pastori Ma solo uno nella Bibbia viene definito il sommo pastore Ed è il nostro Signore Ed è a lui che volentieri ci sottomettiamo confessando il grande bisogno che abbiamo di lui Le dieci cose che non mancano e non mancheranno La prima di essa è certamente il riposare Come leggiamo nel verso 2 Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli Mi fa riposare È l'unico vero riposo Il libro di Michea dice questo non è il luogo di riposo Ed è proprio vero Ogni giorno ne spunta una Ogni giorno una nuova difficoltà Ma nel Signore noi troviamo il riposo Nel Signore noi godiamo del riposo Due doni speciali ci aiuteranno da parte di Dio Per avere, realizzare, godere di questo riposo Il dono dello spirito di cui è detto Come il bestiame che scende nella valle Lo spirito dell'Eterno li condusse al riposo È la descrizione del popolo del Signore Chi ha avuto modo e sottoscritto ce l'ha avuto In Piemonte di vedere il bestiame che scende libero Per i pendii, per le colline Nei verdi pascoli dei monti che ci sono lì Ha visto come scendono Belli, con entusiasmo, con forza Scalpitando E io desidero dirvi che il Signore ci guida al riposo Mediante lo Spirito Santo In questo modo Così è scritto E lo dice il profeta Isaia Tu guidasti il tuo popolo Per acquistarti una rinomanza gloriosa Perché quando Dio prende il suo popolo Lo tira fuori dai guai E lo porta E lo porta vittorioso Alla meta che si prefigge di raggiungere Lodi vengono aggiunte alle sue lodi L'altro dono è certamente Gesù Il quale ha affermato quando era in terra Venite a me Voi tutti che siete travagliati ed aggravati E io vi darò riposo Vi darò Significa dare riposo Togliendo il peso La prima cosa che ci siamo accorti Quando il Signore ci ha salvato Ha perdonato i nostri peccati E che il peso si è allontanato Questo peso aveva diverse realtà Ramificazioni, manifestazioni in noi In qualcuno provocava una grande angoscia In qualcun altro una grande tristezza In qualcun altro un'enorme insoddisfazione In qualcun altro ancora Quel senso terribile di separazione da Dio Perché dice Isaia 59,2 Sono i vostri peccati Quelli che hanno fatto una barriera Fra voi e me Il dono che Dio ci fa Le dieci cose che non mancano E ne mancheranno Prima di tutto Il riposare E desidero dire che Con grande chiarezza Non soltanto Dio ci dona il riposo Ma una seconda cosa Certamente altrettanto grande È la calma Perché abbiamo qui in questo Salmo L'affermazione al verso 2 Egli mi fa riposare Inverdeggianti pascoli Mi guida lungo le acque calme Pare che le pecore Non accettino di buon grado Le acque mosse Vogliono quelle placide Vogliono quelle calme È un po' come un senso istintivo Che li porti a sentirsi rassicurate Dalle acque calme E io desidero dirvi che Il dono della calma Di questo Signore Che ci guida giorno per giorno È un dono prezioso Nell'Apocalisse leggiamo L'agnello che in mezzo al trono Li pasturerà E li guiderà Alle sorgenti Dell'acqua della vita Siamo felici di sapere Che la calma Ci è assicurata Dal sommo pastore Che funge da porta Ogni culto Prima, dopo E anche Oltre ai culti I pastori Assicurano L'assistenza spirituale La consulenza spirituale Al greggio che lo desidera Alle persone che lo vogliono Ma non ce li abbiamo con noi H24 C'è sempre un momento Della giornata Che nonostante i social E tutto il resto Noi potremmo Ritrovarci da soli Allora come si fa? E allora siamo felici Di poter affermare Che il sommo pastore Sta sempre con noi Non ci lascia Non ci abbandona E la grandezza Di questo sommo pastore Che lui è colui Che ci dà la calma Perché egli è Non solo la calma stessa Ma egli è colui Che ci introduce Alla calma Perché è scritto di lui Io sono la porta Se uno entra per me Sarà salvato Ed entrerà E uscirà E troverà Pastura Ogni alba Le pecore Si accompagnano all'erba E i pastori Li portano all'acqua Prima Del risveglio Degli insetti Perché possano Dissetarsi Dalla rugiada Che in alcune Regioni del mondo Come per esempio La palestina Protagonista Dei momenti biblici Che consideriamo Anche oggi Poi dopo Diventa tutto Più complicato E questa rugiada Il sole L'asciuga Oppure viene Contaminata Questo poco D'acqua L'unico Dono D'acqua Che hanno A disposizione Io vorrei dirvi Che lo spirito Del Signore Ci introduce Alla calma Che il Signore Di buon mattino La prima cosa Che fa Ci prende E ci porta fuori Che non dobbiamo Cercare strade Stradine Raccomandazioni Segretari Sottosegretari Per Gesù Mediatori Mediatrici Diverse Perché Gesù Ha detto Chiare e tondo In uno dei sette Io sono Dell'Evangelo Di Giovanni Io sono La porta Non c'è Nessun'altra Porticina Nessun altro Mediatore Mediatrice Gesù ha detto Io sono La porta E questo esclude Qualsiasi Altra Porta Egli Veglia per noi Egli considera Il suo popolo Un greggio Da Donargli La calma E la Bibbia Dice Nella calma E nella fiducia Starà la vostra forza E siamo in un tempo Terribilmente complicato Questo che stiamo vivendo Pieno di preoccupazioni Di ansietà Siamo sollecitati Alla negatività E qualche volta Siamo anche sollecitati A disperare Ma la Bibbia dice Perplessi Ma non disperati La perplessità È terrena È umana Che succede? Cosa sarà di noi? Cosa dovremo fare? Come lo faremo? La perplessità è normale Ma l'Apostolo Paolo dice Perplessi Ma non disperati I figli di Dio Non conoscono La disperazione Le dieci cose Che non mancano E non mancheranno Inoltre Sono il ristoro Perché nel Salmo Leggiamo al verso 3 Egli mi ristora L'anima Mi conduce Per sentieri Di giustizia Per amore Del suo nome Voglio dire Che ristora L'anima Quella parte Del essere Tripartito Anima Corpo Spirito Mi ristora L'anima Perché l'anima Ci mette In relazione Con l'altro E l'anima Che ha bisogno Di essere ristorata Benedetta E quando poi Questo ristoro Avviene Accade Noi ci uniamo Al salmista Nel dire Anima mia Benedici Il Signore E tutto quello Che è in me Benedica Il nome Suo Santo Egli mi ristora Come lo fa Conducendoci Per sentieri Di giustizia Dopo la notte Nello sporco Vile Le pecore Costrette a stare In piedi Per il letame Che le sporcherebbe E sporcherebbe La loro lana Sentono il bisogno Di uscire fuori Di bere Quel poco d'acqua Disponibile Della ruggiada Sentono il bisogno Di tirar calci Di essere Un po' Più liberi E lui Il Signore Ci conduce Per sentieri Di giustizia Perché lo fa? Perché noi Siamo delle brave persone No In noi Non abita Alcun bene Perché lo fa? Perché voi Appartenete Penserà qualcuno A una chiesa Degna di questo nome No Non c'è nessuna chiesa Con un nome tale Da assicurare L'esclusività Di Dio Noi ringraziamo Il Dio Di dove siamo nati Cresciuti E rimaniamo E non intendiamo Cambiare Ma Non è questo Che ce lo assicura Dio Ci ristora L'anima Per amore Del suo nome Per amore Del suo nome Il che è tradotto Nel mondo biblico Vuol dire Per amore Della sua reputazione Giosuè Ha appena Vinto Nel nome Del signore Gerico La più antica Città Del mondo Biblico E adesso In un piccolo Paesetto Chiamato Ai Invece Perde la Sua battaglia E' preoccupatissimo E dice In preghiera Dio I cananei E tutti gli Abitanti Del paese Lo verranno A sapere Ci accerchieranno Faranno sparire Il nostro nome Dalla terra E tu Che farai Del tuo Grande No Come vedete Un vero cristiano Non mette in giro Cose negative Non fa Cose negative Perché il nome Del signore Non sia Infangato Che sarà Del tuo Grande Nome I credenti Migliori Sono consapevoli Della propria Inclinazione Allo sbaglio Dovete sapere Che La pecora E' un animale Inclina A smarrirsi Si smarrisce Facilmente Ecco perché Ha bisogno Di un pastore Ecco perché Ha bisogno Di qualcuno Che gli indichi La strada E' interessante E' interessante Notare insieme A voi Che il salmo Più lungo Della bibbia È il salmo 119 Ebbene L'ultimo Dei versetti Del salmo 119 Ovvero Sì Il 176 Dice Io vado Errando Come pecora Smarrita Cerca Cerca il tuo servitore Perché io Non dimentico I tuoi comandamenti Io vado Errando Come pecora Smarrita Spesso non sappiamo La direzione Da prendere Facilmente Ci smarriamo Per strada Ma il Signore Ci dice Tu Non ti smarrire Io sono con te Non ti lascerò Non ti abbandonerò Sarò con voi Fino alla fine Dell'età presente E tra le ultime cose Che Gesù Ha detto Agli uomi Noi come credenti Siamo consapevoli Della nostra inclinazione A smarrirci Ma siamo incoraggiati A credere Che il Signore Ci aiuterà Dice il libro Di Giobbe In sei distrette Egli sarà Il tuo liberatore E in sette Il male Non ti toccherà Ecco perché Abbiamo fiducia Che il Signore Sarà con noi Come fate A non avere paura Noi Adottiamo Le giuste Precauzioni Siamo prudenti Ma non Vogliamo vivere Col terrore Col timore Noi vogliamo Vivere Nella consapevolezza Come dice Il libro di Giobbe Che In sei distrette Gli sarà Il tuo liberatore E in sette Il male Non ti toccherà Il male Non ti toccherà Il male Non ti toccherà Vogliamo avere fiducia Che il Signore Sarà con noi Le dieci cose Che non mancano E non mancheranno Un'altra di esse È La direzione Perché il Salmo Dice Mi conduce Per sentieri Di giustizia Per amore Del suo nome Mi conduce Per sentieri Per sentieri Di giustizia Per amore Del suo nome Abbiamo detto Dio è preoccupato Della sua reputazione E noi dobbiamo Anche esserlo Ma certamente Questa Nuova benedizione Che non ci mancherà È il coraggio Perché Anche se camminassi Nella valle Dell'ombra Della morte Non temerei Voglio subito dire Che la tribù Di Giuda Aveva Valli Con Ripidi Burroni Profonde Fosse E gole Tenebrosi Canyon Ma è un'ombra È l'ombra Della Morte E io desidero Subito dire A tutti quanti Che è solo un'ombra E allora Se è solo un'ombra Io e voi Abbiamo la possibilità Di non avere paura Non possiamo vivere Con la paura dell'ombra Cosa è un'ombra? È quell'area scura Proiettata Da una superficie Di un corpo E io vorrei dirvi che È solo una proiezione È un'ombra È un'ombra È l'ombra Della morte Ma i cristiani Non temono la morte Immaginarsi La sua ombra Anche quando Verrà il giorno In cui io e voi Dovremo Passare All'altra sponda Del Giordano Della morte Io e voi Sappiamo Per certo Che il Signore Manderà I Suoi angeli E saranno Con noi Non Dobbiamo mai Aver timore Del momento In cui Chiuderemo Gli occhi A questa vita E li riapriremo A una nuova vita Perché il Signore È colui che ci aiuterà Ci conduce Per sentieri Di giustizia Noi non temeremo L'ombra Della valle Della morte In sé Un'ombra Non contiene Un male sostanziale Noi non abbiamo Niente da temere Dall'ombra Di un serpente Non ci morde L'ombra Non abbiamo Niente da temere Dall'ombra Di una spada Non ci può Ferire Io e voi Siamo a sicuro Nessun male Nessun male ti toccherà Dieci cose Che non ci mancano E non ci mancheranno Il coraggio Coraggio Che ci viene anche Dalla considerazione Delle passate Liberazioni È scritto In altri salmi Per esempio Il centosette Altri dimoravano In tenebre E in ombra Di morte Prigionieri Nelle afflizioni E nelle catene Ma tu Signore Li facesti uscire Dalle tenebre E dall'ombra Di morte E spezzasti Le loro catene Io desidero dirvi Che tra le cose Che non ci mancano E che non ci mancheranno C'è il coraggio Ben fondato Che non è Un'autosuggestione Che non è Un'illusione Ma che è Un fatto Storico Perché colui Che ha preso Due milioni Di prigionieri Dall'Egitto E li ha portati Per 40 anni Nel deserto Provvedendo loro Cibo Provvedendo loro Acqua Provvedendo loro L'ombra Provvedendo loro Il riscaldamento Di notte Provvedendo loro Che i loro vestiti Non si sono consumati Provvedendo loro Che le loro calzature Non si sono consumate Quello lì Che ha fatto Già questo E ha preso Quel popolo E l'ha portato Nella terra promessa Lo farà pure Per noi Noi non siamo Destinati a restare Per sempre in terra La nostra patria Si trova nel cielo Gloria al Signore Le dieci cose Che non mancano E non mancheranno Un'altra di esse È La vicinanza Di Dio Tu Sei Con me Ecco perché Non abbiamo paura Io non temerei Alcun male Dice il verso 4 Perché tu Sei con me Il salmista Afferma in un salmo Ma tu hai dato A quelli che ti temono Una bandiera Perché si levino In favore Della verità Avrete sicuramente Visto nei film Di guerra E in particolare Quelli antichi E i far west Cosa è capace Di fare Un soldato Un gruppo Di soldati Per preservare La bandiera E non cederla Tutta questa importanza Per una bandiera Per questa stoffa Dirà Chi non sa Qualcosa di storia Ma perché? Perché la bandiera È il segno Dell'asilo Perché la bandiera È il segno Della protezione Perché la bandiera È il segno Della sicurezza Del paese locale In cui tu abiti Tu e io Ci identifichiamo E riconosciamo Nella bandiera Ebbene Il Signore È la nostra bandiera Infatti È uno dei nomi Di Dio L'eterno Nostra bandiera Le dieci cose Che non mancano E non mancheranno Sicuramente Includono La sicurezza Perché qui Nel verso 4 Leggo Il tuo bastone E la tua verga Mi danno sicurezza Sicurezza Com'è possibile Prendere La sicurezza Da Bastone Verga Non è simpatico Dire a qualcuno Tutto questo Ma ricordiamo Che Nel caso Delle pecore Bastone Verga Servivano A proteggere Dai pericoli Servono Per proteggere Dai pericoli E dalle strade Sbagliate Come fai A impedire A delle pecore Ostinate Dure Di comprendonio Che rifiutano I suggerimenti A volte A non correre Verso il precipizio E quindi la morte Devi usare Degli strumenti Il bastone La verga Il bastone Per proteggere Il greggio E anche Il pastore Stesso E anche Dalle bestie Feroci Vi ricordo Che ce n'è uno Che abbiamo Sempre alle calcagne Ma l'apostolo Pietro dice così Di lui Siate sobri Vegliate Il vostro avversario Il davolo Va attorno A guisa Di leon Ruggente Cercando Chi possa Divorare Il bastone Ma c'è anche La verga Verga Che serve A indirizzare Il greggio E non dobbiamo Lamentarcene Troppo Il saggio Dice Nei proverbi Chi risparmia La verga Al suo figliuolo Sbaglia Chi lo ama Lo corregge Per tempo Ci sono Modi diversi Di intervenire E noi vogliamo Pregare Che il Signore Ce lo conceda Di aprirci gli occhi Per farci vedere Che tutto questo Ci dà sicurezza Non si tratta Di un Dio Vendicativo Punitivo Lutero per anni e anni Ha studiato le scritture Dopo aver fatto un voto Se tu mi scampi Da questi lampi Che possono uccidermi Io mi donerò a te E fu così Che entrò in un ordine In un ordine Monacale E nell'umida E isolata Cella Cercava la verità E non La trovava Finché Finché Il Signore Gli si rivelò Non come L'Iddio Punitore E punitivo Ma come colui Che voleva salvarsi Finalmente capì Che siamo Come dice Romani 5 1 Giustificati per fede Giustificati per fede Abbiamo pace Presso Dio Per mezzo di Gesù Cristo Nostro Signore E le dieci cose Che non mancano E non mancheranno Sono certamente Avviandoci a conclusione Anche la Comunione Comunione che è ben descritta qui nel verso 5 Per me tu imbandisci la tavola Sotto gli occhi Dei miei nemici Di che tavola parla il salmista Davide? Del banchetto sacrificale nel luogo sacro? È probabile che abbia in mente questo È anche probabile Che stando sotto al cielo stellato A custodia del gregge La sua mente vada All'obbligo di proteggere l'ospite A costo della morte E di offrighi ospitalità Secondo l'insegnamento antico Ma ciò che conta E che noi vogliamo oggi Da vicino considerare È la lezione spirituale La comunione La comunione è essenziale La Bibbia dice Se camminiamo nella luce Come egli è nella luce Abbiamo comunione l'uno Con l'altro E il sangue di Gesù Suo figlio ci purifica Da ogni peccato È probabile che qualcuno Sia un po' più Più un po' preoccupato Di questa comunione L'uno con l'altro Specie in tempo Di coronavirus E pastore Dobbiamo stare un po' distanti La misura La misura Dell'olio è una pecora Dovete sapere che la sera Le pecore tornano all'ovile E essendo un animale Che non si sa Che non si sa proteggere da sola Il pastore È solo l'ingiusto Ma le sue mani guariscono Toccaci con la tua mano Fallo adesso Signore E noi ti daremo la gloria Il vino rallega il cuore dell'uomo L'olio gli fa risplendere il volto Alleluia E infine concludendo Le dieci cose che non mancano E non mancheranno Sono la soddisfazione La mia coppa Trabocca Rappresenta l'appagamento Dopo un giorno caldo Quando il pastore Trova la giara in terracotta Che tiene freschi liquidi E beve Facilmente sarà portato a traboccare E io desidero dirvi che Il Signore è la mia parte di eredità È scritto il mio calice Tu mantieni quel che mi è toccato In sorte Molti sono preoccupati Ce la farò Ce la farai Perché il Signore mantiene Quel che te è toccato in sorte Non devi farlo tu Lo farai il Signore che ti ama E la soddisfazione Non è solo al presente Coppe che traboccano Ma anche nel futuro Perché dice il verso 6 Certo Beni e bontà Ma accompagneranno Tutti i giorni della mia vita E io abiterò nella casa Del Signore Per lunghi giorni Vedete la benedizione che c'è Intanto Certo Nell'originale è Solamente Solamente Beni e bontà Ma accompagneranno tutti i giorni della mia vita E certo È una promessa del Signore E io abiterò nella casa del Signore Qui in terra Nel luogo di culto dove i credenti Si riuniscono insieme nel nome del Signore Poi in cielo Quando insieme ai Santi di ogni tempo E di ogni sesso E di ogni cultura E di ogni estrazione sociale E di ogni provenienza economica Tutti accomunati da solo una cosa E cioè il sangue dell'agnello Prenderemo le corone Che avremo ricevuto in dono Al Tribunal di Cristo Le poggeremo ai piedi dell'agnello E diremo insieme Tu solo Sei degno Di ricevere l'onore La gloria La potenza Il regno in Sempiter Le dieci cose che non mancano E non mancheranno Ci alziamo all'impiede Padre Ti vogliamo ringraziare Per queste dieci cose Che non mancano E per fede aggiungiamo Non mancheranno Come altre versioni della Bibbia rendono Noi vogliamo domandare Che le anime smarrite Comprendino e realizzano Che tu sei colui Che ci ristora l'anima E oggi che tante persone Sono preoccupate Ansiose In difficoltà Stendi la tua mano Glorifica il tuo nome Amato Padre Benedici tutti coloro Che sono in difficoltà In particolare Le persone ammalate Le persone anziane Le persone senza lavoro Facili prede dell'ansietà Noi preghiamo Guarisci Ogni preoccupazione E dacci la tua calma La tua fiducia Queste dieci cose Che non mancano E non mancheranno Siano L'oggetto Delle nostre preghiere La meta da conquistare I tesori Da custodire Donnali A tutti quelli Che qui hanno ascoltato La tua parola Ma anche a tutti quelli Che stanno seguendo Questo E noi domandiamo La tua benedizione Rimani con noi Nel nome di Gesù Benedetto in eterno Che è a Lui colpo E oggi chiede c'è qualcosa che Sia un po' difficile per me Sulla parola Forza di Confida nel Signore Con Dio è possibile Sì tutto è possibile Che è a Lui colpo Che è a Lui colpo